Siamo volentieri e con convinzione di conoscenare e di collaborare almeno all'evento conclusivo di questo anno dell'iniziativa, che è un progetto dell'Istituto Comprensivo Masaccio, un progetto di questa affermativa che riteniamo molto importante, perché si pone come scopo quello di sviluppare i principi dell'educazione fisica, dell'educazione civica e della cittadinanza attiva. In particolare, venerdì 25 maggio, pomeriggio, tra le 16 e 30, la piazza Masaccio sarà colorata e piena di studenti dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria dell'Istituto Comprensivo Masaccio, che organizzeranno giochi inventati da loro, una mostra di giochi vinte e centri da un partito veramente di attività fino ad arrivare ai giorni nostri, e quindi un'iniziativa importante, perché quelli che sono i principi dell'educazione civica e della cittadinanza attiva, come l'agire responsabilmente, il rispettare le regole, il collaborare con gli altri, sono principi che ben si sposano all'unico del gioco, ma anche fuori a quella che è la vita sociale e la vita migliore. E crediamo come amministrazione, a un momento come questo, un momento storico, come visto ci sia davvero bisogno anche di far passare i messaggi di questo tipo, e da realizzare, e di dare un gioco in poesia.